buongiorno a tutti con questo video tutorial andremo a vedere come presentare la domanda per call veloce per chi è inserito in gae tra le istanze presenti al sistema ce n'è una dal titolo presentazione domanda procedura funzionale per chiamata dm 25 2020 e proprio quella che è denominata più brevemente call veloce dunque il docente aspirante al ruolo può fare vai alla compilazione facendo vai alla compilazione entrerà in una pagina di informativa dei dati personali e scendendo in fondo potrà fare tranquillamente accedi si entra in una pagina proprio di modello di presentazione della domanda dove si ricorda inoltre che l'istanza chiuderà il giorno 8 agosto 2022 alle ore 23 59 facendo modifica oppure avanti nel caso in cui la domanda non fosse stata già inserita si entrerà in una pagina dove si troveranno tutti i dati anagrafici dell'aspirante al ruolo facendo ancora avanti si entrerà nella pagina di inclusione della gradatoria in cui il docente si trova per esempio i dati che in questa docente si trova in gae scuola primaria e non ha riserve e inclusa nella regione calabria nella provincia di reggio calabria con un porteggio 95 con la preferenza q ed r e numero di figli 1 facendo ancora avanti si entrerà nella modello di presentazione della domanda azioni disponibili per poter diciamo scegliere la regione e le province di riferimento si inserisce ecco qui che abbiamo la scelta della regione si potrà scegliere fra l'elenco delle regioni disponibili per esempio si potrà scegliere la regione lombardia e fare per quanto riguarda la scelta delle province scegliere per esempio milano e dare un ordine di posizione scegliere per esempio barese e dare un secondo ordine di posizione scegliere per esempio pavia dare un terzo ordine di posizione scegliere mondo e dare per esempio un certo ordine di posizione di preferenza dunque in questo caso non è necessario indicare tutte le province è chiaro che se ci sono posti disponibili il docente e flaggerà la disponibilità dei posti nel caso in specie non ci sono posti disponibili e potrà quindi fare inserisci e inoltrare tranquillamente la domanda ripeto in questo caso la docente di scuola primaria non ha posti disponibili per il ruolo altrimenti avrebbe potuto flaggare questa casella e l'ordine di pre inserire l'ordine di preferenza per concludere la domanda e poterla inoltrare ringraziamo i nostri telespettatori del dell'ascolto speriamo che questo video tutorial sia utile seguiteci ancora per altri video tutorial sulle gps e la scelta delle preferenze arrivederci a tutti grazie a tutti